RADONNA GATON! RADONNA GATON! GONENDOCON! Perché sei qui? È successo qualcosa? William Johnson è tornato con l'intera somma per comprare la terra. Sta parlando ora con gli anziani. Li ho implorati di opporsi, ma temo che otterrà quello che vuole, se non interverrai. Ma com'è possibile? Su te è distrutto. I Templari non sono mai a corto di risorse. Avresti dovuto darmi ascolto. Ti prego, devi fermarlo. Ma certo. Sai dove si incontrano? Sì. Sì. Sì 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 Sì